Le commesse per la ditta ex leader nel mercato edile nazionale non mancano, lo dicono anche i numeri ad esempio relativi alla perizia effettuata recentemente proprio per il bando di vendita. Per lo stabilimento Valmontana di Monticelli per il periodo 2015-2017 è previsto un fatturato di oltre 2 milioni di euro. Eppure il futuro dello storico marchio leader nel campo dell'edilizia RDB e quindi quello di 436 lavoratori è ancora appeso a un filo sottile. Scade domani infatti alle ore 11 e 30 la possibilità di depositare l'offerta di acquisto per la ditta. È infatti stato pubblicato un bando lampo per la vendita del complesso perché sembra che ci siano compratori interessati. Questa volta però per evitare le amare sorprese del passato a garanzia dell'affidabilità delle offerte i curatori fallimentari hanno stabilito che per partecipare al bando sarà necessario allegare un assegno circolare del valore del 10% del prezzo offerto diminuito però dalle rimanenze e dai lavori in corso. Inoltre il prezzo proposto dagli acquirenti non potrà essere inferiore a 3 milioni e 788 mila euro. Valore stimato da un'apposita società che vede però esclusi gli oneri di bonifica e l'importo relativo ai beni materiali nella sede piacentina di Ponte Nure. Domani a mezzogiorno dunque si conoscerà il destino della forza lavoro della ditta anche se i curatori avranno ancora una possibilità di sospendere la vendita in un solo caso ossia se entro le ore 18 del prossimo 6 di luglio dovesse arrivare un'offerta migliore di quella arrivata col valore più alto entro domani.